Gioco per virtuosi, per virtuosi della musica, perché, accomodatevi, prego, vestitevi proprio da maestri d'orchestra. Tutti? Tutti, tutti, tutti. Inviterei Paolo Antoni, no maestro, se vuole salire giù, sul podio. Ah, io faccio proprio il maestro, vero? Comincia lei, comincia lei. Cioè faccio proprio il direttore d'orchestra. Abbiamo bisogno però dell'aiuto del pubblico, va bene, perché gli strumenti di quest'orchestra sarete proprio voi. Il pubblico deve cantare la canzone che noi vediamo sull'edual alle spalle del maestro, facendo però solo un verso che io vi do di volta in volta, va bene? Quindi non utilizziamo le parole. Gli altri componenti dell'orchestra qua si possono prenotare... Chiedo scusi, a me hanno sbagliato, che è sto con... Perché è tutto al contrario, è tutto al contrario. Ma pure al contrario. È il trick a ballack. È il trick a ballack. La prima canzone sull'edual, noi la vediamo... Io la posso vedere però. Lei sì. Sennò come fa. E noi dovremmo fare il motivo di questa canzone facendo chip-chip come gli uccellini. Posso accordare gli strumenti? Certo, accordi, accordi, come vuole. Chip-chip-chip-chip-chip. Chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip-chip… Siamo pronti? Pronti? Dove ci prenotiamo? Dovete suonare il vostro strumento Ah, strumenti pronti? Herbert, si è prenotato Herbert Ma che è? Dai Ma tu l'hai... Romagna mia No Biaggio Sì, la vita... No Riproviamo, maestro Riproviamo Pronti, strumenti, pronti? Toc, toc, toc Che? Chi è to, to, to? Quando si... Ma che è qua? È perché non tengo... Non ho il leggeo Ho capito, che fa qua? Non ho il leggeo, faccio il c***o Forza E Samira, lui L'estate sta finendo L'estate sta finendo, giusto, cambio La prossima canzone sarà questa Che dovremo fare con il fischio Prego Prego C, se, 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 e, o Procopio, Procopio Romagna No, sbagliate No, era quella Ah, era quella, no Ancora C, se, se Procopio That's Amore That's Amore That's Amore That's Amore Gravi When the world's in the sky That's Amore That's Amore Procopio Prossima canzone Prego, vediamo un po' Io la posso leggere, e io La devi leggere Verso della zanzara Come fa la zanzara Vi faccio sentire Come si chiama lei, signora? Lucrezia Lucrezia Da? Bicelle Allora la signora È venuta da Bicelle Fin qua Per fare il verso della zanzara Ci faccio sentire è bravissima, eh. Bravissima. Che prezzi ha. Se Procopio non da la Tà. Non è che quando devo fare prima t-t-t-t-t e poi... E poi fa la Tà. Allora, prego, Procopio. Ok. Un, due, tre. Peppe Ionice! Tintarella di Luna Prossima canzone Questa è bella Questa venga qua Come si chiama lei signora? Patrizia. Patrizia? Da dove viene? Mi sceglie. Mi sceglie. Mi sceglie. Accordi lo strumento, signora, con il suono dell'automobile. Come fa l'automobile? Brum brum. Brum brum. Brum brum. Brum brum. Perfetto. Brum brum. È pronto? Materia mi. Vai, dacci l'attacco. Solo l'attacco. Non proferire parola. Uno, due, tre, quattro. Perfetto. Non lo fai. Viaggio, viaggio! Non lo sto facendo. Non lo sto facendo! Non lo sto facendo. Non digli mai. Non digli mai! Bravo, papà. Che ti fa male se ti vuoi baciare lì vicino al mare. E tu faccio tutti... Viaggio Inzio ci darà l'attacco, dirigerà l'orchestra per la prossima canzone che è... Vediamo, non mi girate voi. Signori, dirige l'orchestra Beppe Vesicchio. No, non è vero. Beppe Vesicchio. È il nostro Beppe Vesicchio. Come si chiama lei? Mimmo. 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 Da dove viene, indoviniamo? Da Piseglie. Da Torre del Greco. Da Torre del Greco. Allora, Mimmo, il verso che dovremmo fare è quello di un neonato. Come fa un neonato? No, perché essendo una canzone, lui voleva fare scrofe e ritornello. Come fa? Wee. Perché è un neonato di Milano. Vai, Biaggio, danci la tappa. Giù, giù, giù. Ben periodice. Con i mani, con i piedi, con il cuore. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Complimenti. Complimenti. Qui, Chi. Qui, Chi. Qui, Chi. Qui, Chi. Venga qua. Lei è proprio perfetto per la prossima canzone. Come si chiama? Carmine. Diciamo che Carmine è la prima tromba di quest'orchestra. La canzone ha capito qual è. Fai. lei con il suono della tromba deve dirigere tutta l'orchestra lei è la nostra guida, noi la seguiremo ma certamente lei va davanti e noi la seguiamo però l'attacco ovviamente la deve dare il maestro Peppe Iodici un, due, tre non sei scema, sei scema tu sei scema un attimo, un attimo un attimo ma come fai? non devi fare il verso e a che servo io? attiriggere attiriggere, prendete un'automatica qua so ma che automatico? rifaccio ma tu non sei un strumento, sei il maestro lo strumento è casuale il maestro dirige ma lo strumento sono io Carmine è lo strumento allora Carmine però tu non sei venuto fai parlare i professori stasera tutto è possibile grazie a tutti 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 grazie a tutti